E' stato rinviato a giudizio l'autista di TM che alla guida di un autobus travolse ed uccise Argante Sinatti, un settantenne a retino, mentre stava spostando un capriolo investito. Il drammatico incidente si consumò la sera del 4 novembre 2017 alle porte di Arezzo a Pratantico, lungo la regionale 69, in un tratto particolarmente buio. L'anziano notò l'animale sulla strada, accostò e scese probabilmente per soccorrerlo. A quel punto fu colpito dallo specchietto del mezzo proprio alla tempia. Morì sul colpo. Le indagini poi stabilirono che l'autista del mezzo, con una diversa condotta di guida, avrebbe potuto evitare il drammatico impatto. Sempre dalla perizia emergerebbe però che anche il comportamento del pensionato avrebbe inciso sul tragico incidente. L'autista è accusato di omicidio stradale. Adesso il gruppo del Tribunale di Arezzo, Angela Avila, ha fissato il processo per il prossimo 12 novembre. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile.